ci abbiamo ancora tempo che palle cazzo tutti ora pronto si pronto si sono il presidente conte buongiorno presidente se c'è lei si si sono io sono io si guardi ho trovato il numero all'autogrill nei bagni dell'autogrill esattamente l'ho trovato ma scherzavo la portavoce ma dai rocco casalino ha trovato il suo numero e allora ho pensato bene di contattarla io scherzavo comunque guardi se ci io seguo sempre la sua trasmissione su radio nostalgia devo dire che mi piace molto però la chiedo per piacere di fare una cosa importante lei deve aiutarmi aiutare il paese aiutare l'italia a contestualizzare il problema della covip 19 soprattutto il problema delle mascherine sa benissimo che i giovani vanno incentivati a portare la mascherina che questo deterrente necessario insieme all'uso delle distanze sociali insieme all'uso della amochina dei gel disinfettanti è importante l'uso della mascherina quindi guardi la interrompo perché io uso la mascherina distanziamento sociale abbiamo il gel poi il radio insomma abbiamo tutto poi lo dico sempre anche alla radio nei miei video insomma io sto cercando di sensibilizzare un po tutti certamente se ci allora guardi lei fa questo video dove si metterà la mascherina e dirà ai giovani i suoi ascoltatori e sui radio ascoltatori di fare come lei allora un attimo appoggio un secondo presidente appoggio un secondo ho già messo la mascherina quindi proprio certamente io gliene sarò grato e poi non si preoccupi li farò avere i famosi 600 euro dell'inps ma presidente lei mi sta lei mi sta prendendo in giro c'è i soldi dell'inps a noi dello spettacolo sono arrivato ci tengo sì anch'io però comunque al mondo dello spettacolo non glielano mandati si ricordi che lei ha fatto questa promessa si anche lei al suo premier si anche lei ha fatto la promessa ma a noi comunque non ce li hanno mandati il video che avete visto ovviamente sarcastico serve per far capire a chi guarda i miei canali social che non c'è bisogno che ci chiami il presidente conte per ricordarci che dobbiamo indossare la mascherina il distanziamento sociale ovviamente lavarsi le mani spesso o usare i gel i gel che servono per sanificare le nostre mani forse ho sbagliato anche il termine insomma usate la mascherina usate la testa perché solo così potremmo sconfiggere questo virus grazie a lorenzo meazzini che ha prestato la sua voce di conte buon sabato